Appuntamento martedì 28 agosto agli ore 21 all'Auditorium San Domenico a Foligno con il concerto dedicato a Joan Sebastian Bach per pianoforte e orchestra. A presentare l'evento che ha il patrocinio del Comune, la direzione nonché organizzazione artistica dell'Associazione Amici della Musica di Foligno, il presidente della Fondazione Carifol Gaudenzio Bartolini e il presidente di Oma S.p.A. Umberto Nazareno Tonti che ha sostenuto il progetto nell'ambito delle iniziative che celebrano i 70 anni di attività dell'azienda. La cultura rappresenta uno degli elementi fondamentali per far incontrare le persone con l'impresa. L'impresa senza cultura non è nulla perché sarebbe solo un insieme di macchine e un insieme di processi di per sé anonimi. La cultura la mette l'operatore che in qualche modo è colui che governa tutto il sistema e quindi più c'è cultura più c'è possibilità di interloquire con quelli che sono i mezzi tecnologici straordinari che vengono messi a disposizione del lavoratore. I musicisti che si esibiranno sul palco del San Domenico sono i solisti Maurizio Baglini, Gianluca Luisi, Marcello Mazzoni, Andrea Padova, Marco Scolastra. L'orchestra è quella dei solisti filarmonici italiani, dirige Federico Guglielmo. Di Bach saranno eseguiti i concerti per due, tre, quattro pianoforti e orchestra che vedranno allestire in compresenza nello spazio dell'auditorium quattro pianoforti a coda suonati dai rispettivi maestri. Collaborazioni alle spalle con il Festival dei pianisti italiani di Reggio Emilia, la miata Piano Festival e il teatro La Nuova Fenice di Osimo. Ormai consuetudine che la fondazione verso la fine di agosto offre alla popolazione di Foligno del Comprensorio un concerto. Quest'anno insieme alla fondazione si è associata a finanziare questo concerto una importantissima azienda della nostra zona, la Oma Tonti, in quanto festeggia i suoi 70 anni dalla fondazione. È un concerto importantissimo di bacche, un concerto a quattro pianoforti, un evento unico ci diceva il maestro Scolastra che difficilmente si ripeterà sia in Italia che all'estero. È un concerto gratuito aperto a tutti i cittadini e i biglietti sono disponibili per essere ritirati da lunedì mattina presso la sede degli Amici della Musica vicino a Palazzo Candiotti.